Prova, 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 prova. Francesco Pallucci, ready, action! Sono Francesco Pallucci, ho 32 anni, vengo da Tivoli. Ho deciso di studiare recitazione perché è un lavoro che a me piace molto, potendo fare appunto ogni personaggio che nella vita reale non è possibile fare. Ad esempio io non potrei mai fare il chirurgo nella realtà, ma nei film sì. Il rapporto con l'accademia è molto buono, nel senso ogni giorno comunque è una crescita personale perché si condividono tante situazioni, tanti sentimenti, tante emozioni. Ognuno di noi comunque ha un vissuto che porta in scena. È proprio vero, non si smette mai di imparare e per questo a me piace perché sto scoprendo tanti lati di Francesco che avevo nascosto perché comunque magari sono punti di dolore, punti segreti, no? Invece qui si riesce ad esternare tutto. Action Academy l'ho scelta perché secondo me è una garanzia e mi sono quindi affidato e fidato a questa accademia. Coppola ti seguo da molto, sei il mio regista preferito quindi non vedo perché non collaborare insieme. A te che vuoi fare l'attore se hai il mio stesso sogno? Quello che io ti consiglio è di allenare mente e corpo perché mente e corpo vanno allo stesso passo. La recitazione è un allenamento continuo, è come la palestra. Il muscolo cresce se lo alleni ogni giorno. Ragazzi la campanella sta suonando la lezione quindi sta iniziando. Vi mando un saluto da parte di tutto l'Action Academy e ciao a tutti! Grazie!